Nell'aria c'era la percezione che la candidatura a sindaco di Quintino Pallante da parte del centrodestra zoppicava. Solo Fratelli d'Italia andava dritto su Pallante, forte del consenso romano, ma da parte degli alleati, solo un'apparente volontà di intenti, ma il nome di Pallante non lo pronunciava nessuno. Forza Italia e Lega in testa. A quel punto scontata la rinuncia di Pallante, che resta quindi felicemente posizionato sugli attuali incarichi di presidente del Consiglio regionale. Poi c'è da aggiungere la posizione dei popolari per Italia. C'è una proposta da parte dei popolari che andiamo a discutere con l'intera coalizione per fare una scelta di unità all'interno del centrodestra per poter vincere al Comune e con la nostra proposta battere le coalizioni avverse. Il nostro obiettivo è quello di governare, non è quello di litigare. Non c'è nessuna preclusione nei confronti di nessuno. Crediamo che un programma deve essere scritto. I popolari oggi hanno preso in mano la situazione, nel senso che cominciano a parlare di alcuni punti salienti per la città di Campobasso, dall'abità al centro storico, alle contrade, allo spopolamento, per poi andare noi nelle contrade per sentire anche le istanze del territorio, perché il programma non deve essere solamente scritto e letto, ma anche costruito insieme a chi vive quotidianamente nella nostra città. I popolari sentono la responsabilità di rappresentare una delle forze politiche di maggior consenso nella città. Sentiamo anche la responsabilità di cominciare a confrontarci su temi, con le associazioni che oggi ci sono, quelle degli obbisti, quelle delle contrade per parlare delle difficoltà che ci sono. Una persona nella contrada diceva che siamo nel 2024, c'è l'intelligenza artificiale, ancora non ci sono le fone nella parte mia, ancora non c'è l'illuminazione, ancora non c'è il metano. Noi non facciamo un discorso la colpa di chi è, noi diciamo che cominciamo a stilarlo insieme, poi sappiamo tutti che c'è il PNRR, che ci sono diversi milioncini sopra da dover spendere e qualificare e su quello vogliamo confrontarci e misurarci con la cittadinanza di Campobasso.